I am the one who knocks, diceva Walter White in Breaking Bad. Ma come può una singola battuta di dialogo racchiudere l'intero senso di una serie? E come è possibile ideare architetture narrative complesse che tengano lo spettatore incollato allo schermo per ore ed ore ed ore? Viviamo nell'epoca delle never ending stories, le storie che hanno un finale ma non una fine. Insieme le smonteremo per capire come sono fatte. Impareremo a ideare un concept, quel dispositivo in grado di rimandare la risoluzione del conflitto potenzialmente all'infinito. Ideeremo personaggi tematici, scriveremo soggetti, fino ad arrivare a concepire un mood board di vendita. Insomma, sarà un viaggio turbinante che ci porterà dal lettino dello psicanalista di Tony Soprano alla Madison Avenue di Mad Men, passando per la scampia di Gomorra, le lande desolate della Louisiana di True Detective, fino alla Milano di 1992. Io sono Filippo Losito e vi aspetto nel corso online della scuola Holden Never ending stories, le storie che non finiscono ma continuano, 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 continuano. Grazie per la visione!